Allora c'è questa rivalità, che è una rivalità di tanti anni tra Ischia e Capri e noi mentre camminavamo abbiamo incontrato queste simpatiche signore che vengono da Roma le quali hanno sostenuto qualcosa che farà molto piacere agli ischitani, che è Ischia? Ischia per me è molto più particolare, ha molte cose più belle di Capri anche le cose architettoniche, le chiese, le chiese sono stupende io se devo, anche se Capri poi è tanto più cara, io comunque anche se fosse più cara Ischia tornerei sempre a Ischia Lei non è la prima volta che viene ad Ischia? No, io ci sono venuta tanti anni fa e non una volta, tante volte sono stata a Forrio di Ischia, ai giardini Poseidon, mi sono trovata benissimo e non vedevo l'ora di poterci ritornare Ecco, e ora state andando a visitare il Castello Aragonese? Sì Che cosa vi aspettate da questa visita? Beh, intanto già all'esterno ci ha molto soddisfatto, io l'ho visto dal traghetto, me ne sono innamorata ho detto ci devo andare ed eccomi qua L'ultima domanda signora, come si mangia a Ischia? Madonna mia, una cosa stupenda, stupenda, stupendo, si mangia bene La gente, è bello il posto, siamo molto soddisfatte E la roba non costa tanto, i prezzi sono accessibili e è genuina